non ci posso credere, non ci posso credere funziona avete visto Andrea è riuscito a cambiare la centrale adesso bisogna vedere se va tutto bene ma qui resta acceso ancora qualcosa, bisogna programmarla, mamma che personaggio che ha incontrato Andrea centralina di conca di rame ragazzi che personaggio decodificato centralina ha fatto partire la macchina ha un nipote che è un genio come Einstein sulle centraline qui abbiamo il nonno di Andrea che segue il nipote nei suoi lavori, qua un gran bravo ragazzo Andrea è un grande lavoratore ma ha una testa come Tesla, come Einstein il nuovo Einstein delle centraline, il nuovo Tesla questo può preparare, no 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 dire che Tesla perchè sennò dopo mi spara, Tesla viene americano e mi porta a vita ok ci piace anche scherzare, grande adesso vediamo se la macchina, riusciamo anche a mappatura, fare un po' di mappatura, spegnere un po' di spie questo è un insegnamento che se va devo cambiare l'olio e metterlo un po' a puntino perchè i tempi che corrono è miracoloso avere una macchina a gas che non consuma niente ok